Bisogna dire a Conte che il calciomercato chiude il 31 gennaio, quindi basta, poi non si può fare. Beh, 1x2, cioè mi sembra veramente di... il calcio ormai è diventato una metafora della vita, per cui, beh, ognuno a casa sua fa quel che vuole, io credo che non ce lo possiamo permettere. Stiamo facendo le audizioni qui alla Camera e la boggiatura sul recovery, sul piano presentato dal Governo è drammatica. Addirittura il servizio studi dice che sono sbagliati i conti. Quindi forse dovremmo avere tutti più a cuore il destino di imprese e di famiglie. Comunque, vediamo... E' pronto per governare? Noi lo stiamo dimostrando, siamo pronti e vediamo che cosa succederà. Adesso ci troviamo.